Lumaca, lumachina, tira fuori la testina Lumaca, lumachina, tira fuori la testina Lumache, lumachette, tirate fuori le cornette Lumache, lumachette, tirate fuori le cornette Oh, guarda, una lumaca! Lumache, vuoi venire a casa con me? È furba! Vedi, si muove! Ciao! Salve, vedo che tutte le bellezze sono qui, su, andiamocene a casa No, Manabu mi sta aspettando Cosa? Manabu, Manabu, tu parli sempre di lui Ma che ci troverai di bello in uno come quello? Lui è molto meglio di te Tu hai una faccia che sembra quella di un gatto No? Accidenti, mi fai venire i nervi, certe cose non si devono dire Ripetilo, avanti! Su, dillo ancora, avanti! Lasciami! Che diavolo è questa roba? Una lumaca! Accidenti! Che cosa vuoi fare? Tieni! Maledetta lumaca! Maledetta lumaca, maledetta! Maledetta lumaca, maledetta! Su, svegliati ragazzo cattivo Andiamo a fare una passeggiata di mezzanotte Adatta per le persone brutte e cattive come te Ti mostrerò un mondo sciocco e inutile Su, muoviti! Accidenti! 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 Stupido essere umano, aspetta e vedrai. Che cosa? Ah, bene, aspetta. Poveri insetti, poveri animali. Portare via le abitazioni degli insetti e i prati e l'erba. Gli esseri umani sono i nostri nemici. Nelle città degli esseri umani non si vede nemmeno una stella. Invece le stelle brillano nel deserto dei Gidoroni. Ciao a tutti! Si può sapere che diavolo vuoi? Per caso hai in mente di importunare di nuovo Shizuko, non è così? Che brutta faccia, oggi è la volta che ti spacco il muso, Tanaka. Vieni sulla spiaggia. Ma Nabu non avrà intenzione di bisticciare. E non cercare di fermarmi, sai, mi hanno raccontato la storia di ieri e voglio dargli una lezioncina. No, non voglio fermarti, anzi ti aiuterò. Brava, si deve fare così. Io me ne vado. Vi dico scusami se ti ho fatto aspettare. Ma a mezzo, guarda là! Guarda, guarda, ci sarà da divertirsi se le daranno di santa ragione. Ma a mezzo! Si sono fermate. Quando Manabu e gli altri sono passati, le antenne hanno cominciato a vibrare. Che cosa? Su, avanti, muoviti. Manabu, che aspetti? Io sono pronto. Ehi, tu, tu mi hai colpito. Manabu, oggi di sicuro ti faccio secco. Fermo, aspetta! Fermo, ti prego! Togli quelle manacce! Shizuko, stai attenta! Yamar, guarda un po' là. Carugna! Ehi, Tanaka, apri gli occhi. Che cosa ho combinato fino a questo momento? Non sfottere, Tanaka. Visto? È proprio come se si svegliesse da un sogno. E che cosa c'è di strano? Yamar, non ti ricordi più di Mai Mai. È vero, è proprio Mai Mai. Yamar, tu la coccolavi come una sorellina, te ne ricordi? Non c'è bisogno che me lo diciate, mi ricordo di lei molto spesso. Aspettami, Mai Mai! Ehi, Mai Mai! Oh, mamma! Yamar, cattivone, mi seguivi di nascosto, vero? Scusa, ti ho spaventato. Proprio così. Sapete, Mai Mai è capace di arrotolarsi un uomo intorno al mignolo. E lo fa togliendo la forza fisica a un uomo, esattamente come ha fatto con Tanaka. Vero, Yamar? Mai Mai non è come dici tu, ti sbagli. Oh, ehi, ma... Guardate! Ajea, non c'è dubbio, è quella ragazza, dovrebbe essere da queste parti. Coraggio, Shizuko, vogliamo andare? Tanaka deve avere perso la testa, Shizuko, mi sembrava così strano, non l'avevo mai visto così scoraggiato. Ehi, non lo puoi smettere, Cancù, fai troppo chiaro. Lo so, lo so, ti capisco. Tu vuoi dire che Shizuko è bella, non è vero? Idiota! Non so proprio cosa fare. Ah! Mai Mai, perché l'hai fatto? Sei stata tu, non è vero? Ieri sera un ragazzo ha fatto un macello in città. Era opera tua, vero? Tu ce l'hai portato. Proprio così, Yamar. Che peccato. Perché sei passata dalla parte del nemico? Perché? Ma di, sei forse cieco, Yamar? L'umanità sta distruggendo tutto. Non ha nessun rispetto per la natura. Una volta questa terra era piena di fiori. Con il ferro e la plastica l'umanità sta soffocando la natura. Gli uomini egoisti sono più veloci delle automobili. Più veloci dei treni rapidi. Più veloci di un jet. E la natura viene distrutta un poco alla volta. Noi, microidi, dovremmo combattere contro gli esseri umani. Questo è forse quello che ti ha insegnato Gidoron? Eh? Sì, certo, è esatto. Sei stata ingannata. Certo, gli uomini possono anche fare delle cose sbagliate. Ma Gidoron è un mostro che vorrebbe distruggere la natura. Prova ne sia che ci ha fatto schiavi. Ci ha fatto diventare microidi. Non sei obiettivo. Stai con gli uomini. Mai Mai, cerca di aprire gli occhi. Sei stata riempita di un insano odio selvaggio. Mai Mai. Mai Mai! Mai Mai! Non ho più nulla da dirti, Yammer. Solo non venirmi più tra i piedi. Ti prego. Aspetta! 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 Mai Mai! Volevo dirti che non voglio combattere contro di te. Aspetta! Mai Mai! Ora c'è qualcuno che vuole risolvere questo problema. Avanti ragazzi, coraggio. Vuoi farlo tu? Ovvio. Tu allora. Avanti. Lo so che è molto difficile, ma vorrei sapere chi di voi sa farlo. Tu? Ma che dici? Non c'è nessuno in questo banco, perciò... Ah, mi ha trattato come una pezza da piedi. E dire che per un microidi è un calcolo simile a un gioco da bambini. Allora tu. Vediamo, sei pronto, Manabu? No, signore. Ma come? Non ti senti orgoglioso di essere stato interpellato? Nessuno di noi sa risolvere il problema, perché dal modo in cui lei spiega, nessuno ci può riuscire. Noracola al maestro. Ancora, l'hai detto ancora una volta, ma è subito fuori, fuori, va, è il terremoto. Oh, guarda, un vero caro armato, fantastico, è pieno della parte nostra. Mi sembra davvero. L'abbiamo visto ieri sera lato e buoni. Sì, sì, è benvenzione. Oh, che caro armato. Ehi, accidenti, ma non sto mica sognando, vero? È tutto vero, è la realtà. Forse è Gidoron. Gidoron. Per forza, questa deve essere opera di Gidoron. Vieni fuori, Gidoron. Ehi, Gidoron, su, vieni fuori. Grazie tante, cosina nera. Si tratta di un carro armato che continua la sua marcia e l'unica spiegazione possibile è che il suo guidatore possa aver perso la testa. Si sta dirigendo verso la scuola e spara a casaccio. È opera dei Gidoroni. Su, andiamo, dobbiamo agire. Coraggio, Yamar, che ti succede? Quella è la scuola dei nostri amici. Questo non è il momento di stare a guardare. Yamar, perché sei così strano? Tu non vieni. Eh? No, non vieni, ci penso io, da solo. In volo! No, non vieni, ci penso io, da solo. Mai, 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 dove sei? Questa è opera di mai, mai. Coltello microide! No! Yamar, era ancora tu, eppure ti avevo avvertito di non venirmi fra i piedi. Però io non ho mai accettato il tuo avvertimento. Nemmeno da una specie di sorella come me. Non potevo. Yamar! Coltello microide! Mai, mai, attenta! Mai, mai! Yamar! Mai, 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 ti prego, rispondimi. Apri gli occhi, apri gli occhi. Io sono contenta. Di cosa? Che tu, Yamar, ti sia salvato. Mai, mai, no, mai, mai, rispondimi. Mai, mai. Mai, mai. Io, io odio i cidoroni. Che hanno infuso in mai, mai, idee sbagliate e false. E in lei che è stata sempre così buona e così dolce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.